L'ultimo turno, cari ladies and gentlemen della magia notturna Che siete spettatori questa sera di qualcosa di diverso Dalla solito, dalle vostre abitudini solide In cui in questo momento saremmo tipo a insultare però dal telefono E invece no! Ci troviamo qui a commentare in maniera serissima Il terzo qualifier dell'Amazon University eSport Tournament in palio Uno slot, anzi otto slot in questo qualifier Per tutta la top 8 Che raggiungerà il miglior punteggio al termine della Svizzera Quindi al termine di questo sesto turno della magia Raggiungerà la finalissima che si discuterà giovedì 31 marzo In onda sempre su questo canale Twitch A partire dalle 17 Magia pomeridiana, altro che serale, notturna Magia pomeridiana Che si discuterà Che si discuteranno questi magnifici 32 dei 4 qualifier Appunto il monte previ di 500 euro E se volete smetterla di accarezzare i bradipi Mentre state ad osservare qui la live in questione Beh potete finalmente iniziare a Mischiare le carte invece di stare lì a criticare Col vostro dito storto inquisitorio Mischiate le figurine, preparate il vostro bazzo E addentratevi nel quarto qualifier L'ultimissima chance che avete a disposizione Martedì Ora Martedì 27 Martedì No non è vero Martedì 29 Martedì 29 Ultimissimo qualifier Link dell'iscrizione lo trovate qui sotto La live nei riguadri Sulla sinistra Ci siamo ladies and gentlemen Addentriamoci nell'ultimissimo turno Della magia di questo terzo qualifier Di Amazon University Esports Bellissimo Ce lo commentiamo fin dal principio Dimir Rogue Come scusa Dures di mazzo Come i veri Giocatori Che si dispettano della magia Vai Dures Attenzione Celesto Bianconero control Cosa vedono i miei occhi Il mio cuore sta per esplodere di gioia Doppio mazzo spicy in finale Come scusa Di questo qualifier Bianconero control No Ab Come scusa Orochi Attenzione Orochi Mario Attenzione Attenzione Quello non me l'aspettavo Quello non me l'aspettavo L'acceleratore di mana Non me l'aspettavo Quindi Abzan Abzan control Non lo so Non mi fido tanto di quel mazzo Devo essere sincero Outsider come deck Nelle nostre menti Dures su Kaya Ci saluta Solo Skyclive Apparition Che si può lanciare Sì Si può lanciare In questo turno Con La terra stappata Selesnia Top deckata esattamente In questo momento Skyclive Apparition Bam Ciao Esploso il pezzo Ovviamente Però c'è tanto valore Ancora Qui nella mano di Drevo Mi sembra che Drevo Qui è abbastanza in vantaggio Male questo Missland Drop Ulteriore C'è anche Ganjo Attenzione Bisogna capire Che c'è anche Ganjo Nella mano di Rob Life Quindi non sono due terre Normali Sono due terre Di Kamigawa E le terre di Kamigawa Si sa Possono anche valere 25 barra 30 euro Non ho capito Non ho capito Ho capito C'hai Ganjo C'hai Ganjo Scusa 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 C'hai Ganjo Forse quella terra Ci sta a tenerla Pegno del world Bisogna scartare una carta Se non vuole Appunto se non si vuole Essere counterati La rimozione Che è Ganjo In quel frangente Che adesso Andrà a essere lanciata Quasi sicuramente Non vediamo risposta Nella mano Di Drevo No Questo mi sorprende Questo mi sorprende Abbastanza Questo mi sorprende Moltissimo Moltissimo Va a prendere Gaia Che sicuramente È forte Però Non capisco perché Non sia stato risolto Questo 4-4 Con i Ganjo Vabbè Per prendere Gaia Boh Vabbè Ok 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 Terra Gaia L'ottima Gaia Ottima Gaia E Sempronia Che va a risolvere Il 4-4 Ci saluta Il L'1-1 L'1-1 E si picchia Attenzione perché La situazione è qua Eeeh Non è per niente Ottimale Per Drevo Attenzione Qual è qua la soluzione E infatti Mi sa che è quello Che vuole fare Si va a pescare E scartare Si scarta tranquillamente Dures Non serve più a nulla La mossa qui è fare Tiff E Power Award Kill Su Skate Live Apparition Doomscar Una Doomscar Che al momento Un po' Un po' inutile Vediamo se decide Di attaccare Anche con la terra Quasi certamente Lo farà Quindi Power Award Kill Risposta al più 1 Di Gaia Fortissimo Botta micidiale Questa qui Botta micidiale Della magia Probabilmente Un doppio attacco Sopra Sopra Il Planeswalker 5-5 E la 1-1 Che verrà mangiata Da Tiff No La 2-2 Scherzavo Schiedovenia Ci sono abbastanza carte Nel Cimiteros Di Rob Live In questo momento No Preferisce togliere il mana Interessante Questa scelta Non lo so Non sono un vintissimo Sia corretta però Preferisce togliere il mana Anziché Vediamo se fa Zaret Fa Zaret E non era meglio Aspetta un attimo Zaret Mi dimentico sempre cosa fa Zaret Di preciso Zaret deve infliggere danno Al giocatore No Non a Placewalker No E rimette in gioco Che cosa Un'ottima Gaia Beh Sembra un discreto turno Un discreto turno Deve infliggere danno Al combattimento al giocatore Ok quindi E mette Gaia E risolve Gaia In quel modo No perfetto Perfetto L'unica cosa Non ho capito Non ho capito Perché ha deciso Di non sparare Skyclave Dimmi roga Ha perso Delle carte fondamentali Che sfruttano Il cimitero Cioè la numerica Di carte Del cimitero Dell'avversario Eh Quindi un modo Che hai per sfruttare Il cimitero dell'avversario È Proprio Zaret Sun Quel coso lì Facciamo che Se quando esplode Me lo riprendo in mano Mi sembra E lascio un pupazzo Uno uno Quando esplode Sta per esplodere Quindi Sta per succedere Esattamente Questa cosa Stonks Si vessica Conoscono le liste Questa cosa è fondamentale I giocatori Conoscono Le rispettive liste Ok Quindi Drevo Sa Che Nel mazzo Di Rob Esiste Una Doomscar Zaret Che in questo momento Ovviamente non riesco a capire Che cosa potrebbe andare A resuscitare Dal cimitero Di Rob Ma devi pure scartare Se scarti la saga Devi resuscitare la saga Adesso sappiamo Che cosa resuscitare L'ottima saga Tipo invincibile Quella saga è fortissima E calla Block Stonks E adesso Il fattaccio Avviene Mamma mia Pure negate Mamma mia Negate Negate l'ha pescato adesso No? Mamma mia Che top deck Furioso Meno tre Ci saluta Ah forse vuole riprendere Gaia Allora Ci sta a riprendere Gaia Va benissimo riprendere Gaia No attacca Ma è morto? Ah è morto? Sono tre Quattro Cinque Sette Sette No non è morto Aspetta Ah si è morto È morto No non è morto Sono tre Quattro Cinque Sette 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 Non è morto E allora No Vabbè però lo stesso vince in realtà Non cambia niente Vincio uguale Vincio uguale Però Vabbè Io mi sarei tenuto open Di negate Avrei fatto Zaret Negate Open Non puoi perdere Vabbè Anche così non puoi perdere Avversario 1 C'ha la terra animata C'ha One C'ha One a prescindere Qua qualsiasi giocata Va a fare È vinta A prescindere Ok devo dire la verità Drevo Gioca molto veloce Anche se magari non ho condiviso Tutte le scelte Di ambo i giocatori Devo dire che sono anche un giocatore Più lento di loro Quindi ottimo Complimenti per la sveltezza Che sicuramente È un qualcosa Che devo colmare Che ancora Non ho masterato Per niente Nel senso Godetevelo Per quello che è Insomma Se vedete Dei mazzi strani Se vedete alcune giocate Un po' discutibili Dovete sapere Che il torneo È assolutamente Per divertirsi Ok C'è Ha anche un bel contentino Nel senso C'è anche un bel premio In palio Ti diverti E se sei bravo Nel farlo Ti porti a casa Pure un bel gruzzoletto Però è assolutamente For fun Skip facile Bravo Perfetto Binding the old god Era da tanto che non lo vedevo Isola passo Isola passo Niente dures Però Terra tapped Consider fine turno Andiamo a caccia di terre Non ci Non è una terra Non ci somiglia Non è una terra Non ci somiglia È una terra Ci somiglia Io No Giusto 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 fare così Giusto rimanere open Di negate Probabilmente Anche se spell pierce Probabilmente era già Abbastanza Però va bene così Quella non somiglia a una terra Non somiglia a una terra Non l'avrei pescata mai Non l'avrei mai pescata Vado Sarei andato sempre a caccia Di Di mana nero Però vabbè Un po' greedy Questo mi tengo il pupazzono 1 Per carità C'ha la sua dignità Ma Insomma Ok Pesco Non terra nera Male Molto male Quindi non mana scru Ma bensì color scru Valky Mischiosa ma non troppo Vediamo questa palude Quando arriverà Se pesca adesso palude Cambia tantissimo L'aver tenuto Cambia tantissimo Cambia tantissimo Cambia Vuol dire che avrebbe avuto palude un turno prima Cambia un botto Però vabbè È ancora assolutamente in partita in verità Che è Un'ottima Un'ottima figurina Vediamo se Qui attaccherà con entrambe le creature Per Non ho capito Non ho capito Non ho capito Ah perché ha passato Ha passato Ha passato No Perdono Ha passato Ha passato Ha passato Non ha fatto combat Giustamente Furbescamente Rob Non ha attaccato Proprio per evitare Esattamente Removal su Skyclave E blocco su 2-1 Sarebbe stata una mossa Quanto meno superficiale Quindi sai che c'è spell pierce Quindi non ha il minimo senso farlo Entra su Inid Entra su Inid Proprio per Giocare intorno a tutti quei counter Preferisco giocare una 4-4 E ti blocco la race Assolutamente comprensibile Arriva un altro mana nero Finalmente Fondamentale Direi Dures Si va a togliere La figurina più potente Nella mano di Rob In questo istante Forse sono i Vanishing Verse Le carte più forti Perché Le spell Le spell molto costose Non mettono paura Avendo spell pierce E negate in mano The Wandering Emperor Lo toglie Sopra Vanishing Verse Sì Texas Ranger Bo Angelo Io farei Angelo Dritto per dritto Qua è cattivissimo Angelo Tiè Face Easy 4 vizze di Burku Il porco Hitta 4 danni Sulla faccia di Drevo Arriva quel tiff Arriva un negate Posso dire una cosa? Negate Devo dire che non mi convince tantissimo Questo matchup Però non ricordo se ci sono Copie di Stroke Già inserite Post side Proprio male Secondo me negate In questo matchup Brutto Andiamo a vedere Skylave Apparition Skylave Apparition Su Stress Faster Si scarta Doom Scarta tanto È in assoluto La cosa peggiore Che si possa fare In questo momento Che Rob possa giocare Perché sarebbe Estremamente Controproducente Diciamo Sono 8 9 danni Sono 9 danni Si va a 4 8 danni 9 danni Si va a 4 Mazzoni Rob è un Abzan Abzan Midrange Semplicissimo Si può Ammugliare serenamente Andiamo a vedere di nuovo Al volissimo La side Sono Interessatissimo A vedere se ci sono degli stroke Non ci sono stroke Fading up È forte Posso dire Mi sembra forte Infernal Grasp Mi sembra Le rimozioni le terrei tutte Non c'è verso Di non voler giocare Tutte le rimozioni Forse il bloodchief brutto Però Anche il Il meno 4 Meno 4 Al creatore a bianca Lo metto Sempre Meno 4 Al creatore a bianca Lo metti Perché ammazzi il porco Ammazzi le sky glaive Quindi ci sta Sky glaive forte Dures La dures Non è bruttissima Io non toglierei Spell Pierce Assolutamente Stroke ci sono Li vediamo Spell Pierce Secondo me No Trespasser è così importante Sto match up No Cioè però togli festival Con Trespasser Negate via Gate via Tutta la vita Bene giusto Giusto togliere negate Totto tutte le dures Crippling fear Crippling fear No Crippling fear No No Assoluto No Crippling fear Non lo metterei mai Perché Crippling fear Cosa Cosa fa Non lo mettere Cosa Le sky glaive Basta No Crippling fear Non mi convince proprio Stamano si mullica Secca Stamano si tiene Secca Non è bellissima Ma la tieni Togli isola Non è bella Ma non si mullica mai Cioè considera Che comunque Scava Ok A due stroke nel deck Sì sì L'abbiamo visto Or ora Consider Siphon sight Value card La vogliamo tirare Sì C'è già una partenza Molto più onesta C'ha subito il mana nero Fin dal principio Arriva il mana Valky È successo Ci saluta Mr. Zaret Vabbè Te lo fai fare Poi fai Siphon insight E si va a cercare Una bella sky glaive Apparition Non ci somiglia A questo punto Angelo A questo punto Angelo Kaido dritto per dritto Non ci pensa Mezza volta Kaido dritto per dritto Va benissimo farlo Va benissimo farlo Phase out Quindi Intargettabile In questo momento Deve aspettare Un turno Per poterlo Targettare Con nulla Perché Vanishing verse Colpisce solo Permanente Monocolore Quindi non può Risolvere Il planswalker Altro Valky Viene parato Attenzione Attenzione Giustamente Viene parato E viene giocato Altro Valky Quindi fatta appositamente Proprio perché Valky è una creatura Leggendaria Non avendo Altre cose Da fare In questo turno Era Questa probabilmente La giocata più sensata Da attuare Spell Pierce Spell Pierce Spell Pierce Ecco Fatto su Wondering Game Però è bello Io ho detto Che l'avrei tolto Forse Non lo so È un mazzo È un mazzo Molto particolare Quello di The Rebo E quello di Rob Ci sono Sia Spell on Creature Che Creature Forse In ugual quantità Spell Pierce Può essere Una carta Anche buona Che invece decide In realtà È possibile Che non Attacchi Valky Perché Ovviamente Timoroso Di un altro 1-3 con Flash Tautif Con Flash Che avrebbe bloccato Avrebbe fatto un value trade Micidiale Su quel Valky Partita Combattuta Credo che la barra Del vantaggio Sia Dalla parte Di Drevo Anche perché C'è un planeswalker Per terra L'avversario No Questo fa sicuramente La differenza Più uno Che si scarta Easy Spell Pierce Storm the Festival Wow Storm the Festival Ti dà Un pochino Gli echi Ti dà I feels Scarta Scarta Zare Tiene Spell Pierce Correttamente Wow L'Olt Spell Pierce Sbang Più Saffron Insight Turno Fortissimo Turno Fortissimo Micidiale Micidiale Per Drevo È assolutamente Sensato Andare a scartare Zare Tentare Spell Pierce Anche perché Hai già il drop a 5 Nella tua mano Che è Lisa Che è Lisa Rubato Con Saffron Insight Si pesca Si scarta Aia E qua scarti Scarti Kaido Qui il pesco scarto Era stato fatto appositamente Per cercare di trovare Il quinto mana Per lanciare subito Lisa Così non è stato Attenzione Attenzione Sei mana in gioco Ma Non Triplo verde Questo era lo spot Perfetto Per Rob Per lanciare Storm the Festival Un grande peccato Grande amarezza Sicuramente non felice Di non poter Avere la possibilità Di lanciare Storm the Festival Caspita Però c'è da dire anche Che è un po' greedy Sto mazzo Cioè Spell con triplo verde Tricolor Una mana base Un po' greedy Guardate quante terre In gioco Senza che Senza che Diano mana verde Ben 4 terre su 6 Non danno mana verde E Storm the Festival È una carta intensiva Carta intensiva E qua è importantissimo Che doveva trovare il mana verde No Si l'ha trovato Ma lentissimo Ma lentissimo Ma lentissimo Questo mana verde Trovato Che però Che però Non è così male Non è così male Perché ti permette Di fare anche Wandering Emperor Adesso Non c'è un counter Su questo Wandering Emperor Quindi c'è la risoluzione Al L'arcangelo Gabriele Ci saluta Si va A 21 Stonks Si lancia Si pesca una carta Intanto Una ricca terra Kaia Che probabilmente Va a risolvere Wandering Emperor Però in realtà Qua la mossa corretta Sarebbe stato Risolvere Celestus Perché Wandering Emperor Non fa assolutamente Niente Mentre Celestus Però Non era facilissimo Però Se conosci la lista Dell'avversario Forse ci puoi arrivare Forse ci puoi arrivare Forse Forse ci puoi arrivare Se qui togli Celestus Lo puoi fare No con Kaia Perché Kaia Esilia Permanente Bersaglio Qualsiasi Qua la giocata giusta Venta carte scoperte Più facile Molto più facile Sappiamo che sarebbe stata Risolvere Celestus Invece Toglie Quel Placewalker Che fa veramente poco In verità E qui ragazzi La risoluzione La situazione Pardon La dislessia La soluzione Mamma mia La situazione Sembra Che si sia Non dico ribaltata Però c'è un braccio Di ferro Importante Sembrava essere Spacciato In questo momento Rob È invece Improvvisamante La soluzione Soluzione Is the new Situazione Old Rustin Che spamma Tessori Mamma mia Ho capito Che poteva pescare Forse A turno dopo Ma intanto Ti tolgo Il triplo Mana verde Scusami Che c'è Se non la pesca Poi che succede Se la pesca Niente Storm The festival Arriva Un inferno Al grasp Sul 4 4 Stonks Ci saluta Il porcus Che voleva uccidere Kaito Kaito Storm The festival Lo facciamo Da 10 Mana O da 6 Mana Rischiamo Lo spell Pierce O non Rischiamo Lo spell Pierce 3 4 5 6 7 8 9 10 Mana No 11 Mana Sono Allora Può fare Tranquillamente Anche Quello Da 10 No Erano 11 Mana Avevo contato Male Sifono Insight Così Per il gusto Di toglierti Una carta Forte Dalla cima Wandering Emperor Non è male Vediamo questo Storm The festival Cosa lancia Di bello Di bello Un'altra carta Che non c'è Dato sapere Angelo Micidiale Questa partita È bellissima È la degna Finale Di questo terzo Qualifier Ladies and gentlemen Senza alcun dubbio È la partita Più bella Di tutte Non c'è Paragone Per divario Per distacco Per varietà Di mazzi Per capovolgimenti Di fronte Anche per abilità Secondo me Dei giocatori Stanno giocando Abbastanza bene Direi Dai Abbastanza bene Bellissima Post side Angelo In tuo angelo Attenzione Perché qui Cripling fear Improvvisamente Diventa fortissima E mi va E devo dare ragione Quindi A drevo Non ero per niente D'accordo Sull'inclusione Di Cripling fear Post side In questo spot Sicuramente Cripling fear Sarebbe Molto buono In questo momento Scusi Non mi ricordo Se giocava Rakdu sacrifice Non mi è piaciuto molto Se era il giocatore Di Rakdos Insomma No Non mi è piaciuto molto Consider Into Cripling fear Sul serio Vediamo Azorius Vabbè Azorius Mi sembra che ha giocato Abbastanza bene Ok E qua si continua A spammare festival Come se niente fosse Check for traps Ci si fa scartare Questo consider Sicuramente Penso proprio di sì Una discreta carta Che va A bloccare I quattro danni Di un angelo Potrebbe anche risolvere Skyclive apparition Si va A Uccidere Il L'angelo Che Attacca Il planeswalker Sicuramente Triplo planeswalker Qui sulla board Di dreo È diventato un Esper Planeswalker Control Da dimmi Rock Botta Quattro Pizza Della magia Si va A 19 Perché ci sono stati Due punti vita Guadagnati Con wandering Emperor Bam Kaia Che toglie Kaia Quasi certamente Kaia Che saluta Kaia Posso dire Bellissimo Il mazzo di Rob Stupendo Veramente stupendo Bellissimo Sono entrambi stupendi Non so cosa dire Li adoro Questi mazzi Che stiamo vedendo Questa sera Li adoro Anche perché Non li trovate Da nessuna parte Li trovate soltanto Qui nella magia notturna E nel torneo Di Amazon University Esports Vi sfido a trovarli In giro Nei siti MTG Goldfish Eccetera No Li trovate solo Esclusivamente Qui E ora Come le opere d'arte Al museo Qui E ora Bang Due pizze Su Kaia Capito? Sul pezzo Imbloccabile Che prende Più uno Più uno Con Emperor Ottimo Ottimo Questo turno La partita Ancora close Non ce la può fare Ragazzi Allora Se non ci fossero Quelle tre copie Di Storm The Festival Nel cimitero Direi Sì Ce la può Ancora fare Ma con quei tre Storm The Festival Io non vedo Veramente Un modo Non vedo Un modo Potrebbe risolvere Qualche Storm The Festival Perché non Potrebbe attaccare Eh però No non può Non può Non può Non può perché deve Deve gestire Deve gestire board Però i punti di vista Sono tanti Sono 15 Però anche se ne togli una Soltanto Non ci includi Assolutamente niente Quindi è più conveniente Continuare a Cercare di Controbattere Board Anziché andare a colpire Cimitero Rogue Superfriend Esatto Si vuscia Ci saluta Sifo Insight In realtà La si gioca In risposta E si vede un po' Che cosa Ciccia fuori Binding The Old God Mi sembra Una carta forte Indubbiamente Lo è Ottima Binding The Old God Può fare doppio Sorin Che saranno 3-3 Saranno Doppia 3-3 Attenzione Ti puoi schiant Saranno Sarà doppia 3-3 Quindi qua puoi schiantare Un angelo Non gioca l'altro Ah What Ah manca un altro blu Mamma mia Terribile questa cosa Terribile Qua c'è la misplay 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 non si era accorto Non si era accorto E manco io mi era accorto Onestamente Della mancanza Di doppio blu Per lanciare doppio Sorin Tautif Malissimo 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 Questa cosa Terra Stavolta Ci fa più attenzione Probabilmente Punito Dall'autotap Probabilmente Punito Dall'autotap Nel Nel turno precedente Ancora sono 15 punti vita Ancora è fattibile Qualcosa Va a prendere Zaret Attenzione Grande mossa Questa qui Della magia Si attacca Con l'imbloccabile Addirittura Con il volante Attaccare anche Con l'imbloccabile Si attacca E si va di Zaret E si va di Zaret Ladies and gentlemen Ottima Questa mossa Ottima Va a mettere Zaret Nel Cimitero Con la terra Se la riprende in mano E triggera Zaret E va a prendere Qualcosa di forte All alt Spider queen Subito Senza neanche pensarci Ammazza Veramente Snap proprio Ci sta Ci sta Mamma mia Che partita Ladies and gentlemen Partita pazzesca Pazzesca Questo è stato un turno Di Potenziale Svolta Giusto attaccare col 2-3 In realtà Non col 2-2 Perché il 2-2 Ninjuzzato Lo perdi Di no Corretto Correttissimo Assolutamente corretto Attenzione però Attenzione C'è un altro Ah no Ok C'ha pure il Regrowth Dal cimitero Tibalt Mamma mia Potente Tibalt Il grande Potente Non Oz Ma bensì Tibalt Tibalt Lanciato dal cimitero Una volta Era Valky Oggi Diviene Tibalt Difficile Non lo so Sono convinto Comunque Tibalt È sicuramente Molto forte È ovvio L'Olt Accresce I suoi Punti Punti loyalty Altro punto vita Si pesca Si scarta Uuuuh Infernal grasp Bam Il 2-2 Che secca Tibalt Questo 2-2 Imbloccabile È un'ammazza Plainswalker Mortale Sta ammazzando Tutti i Plainswalker Tutti i Plainswalker Sta ammazzando Tutti li sta ammazzando Tutti Tutti Attenzione Qui passa Qui passa Drev Attenzione anche al tempo È solo 6 minuti e 26 Rimasti per Rob Non vedo il minutaggio di Drev Ma sarà Molto in vantaggio di tempo Attenzione Dures Si fa qui Infernal grasp E risposta Spider Queen Ci pensa Ci pensa in realtà Indeciso No invece vuole togliere Old Rustin Ci sta a togliere anche Old Rustin Perché fa un sacco di vantaggio Old Rustin Ci sta O mette tesori O mette blood token Ti fa ciclare le terre O mette bufazzo È comunque fastidioso Quindi ci sta anche A spaccare Old Rustin Tanto le bloccanti per Skakelabe A velocità instant Ci sono In questo momento Rob sa Che nella mano di Drev Non ci sono Counter Ci sono Negate Non ci sono Stroke Si può Quindi assolutamente Procedere Si può assolutamente Procedere con Storm the Festival No Decide di pushare Di pushare L'Old Spider Queen Sono 3 4 5 6 7 mana Non potrà fare Non potrà fare L'Old Spider Queen Non potrà fare Festival Ma per quale motivo Decide di fare questa mossa Non mi piace proprio Ah perché c'ha Zaret Ma tanto c'ha la doppia bloccante Può fare doppia bloccante A velocità instant Addirittura la terra Terra Più pupazzo Eh Non mi piace proprio Questa mossa Non l'ho capita proprio Questa non l'ho capita mai Qualcosa mi sfugge Non si può fare Zaret Eh no Non l'ho capito Non l'ho capito perché Non può essere stato colto Di sorpresa In nessun modo Perché Ha fatto Dures Sapeva che C'era una creatura A velocità instant Che avrebbe bloccato Quella terra Ne ha sprecato 5 mana Per non concludere Nulla qui Malissimo Malissimo Ma come non ci ha pensato Ha fatto Dures Non poteva non pensarci Cioè un colte Se non conosci la mano Dici me la rischio Poi c'ha Sorin Taktif Dici vabbè Pazienza Ma hai fatto Dures Sai cosa ha in mano L'avversario Quindi è ovvio Che devi fare festival Male Molto male Questa cosa E adesso Le terre Possono iniziare a Rimuovere Quegli Storm The Festival Rob Non possiede soltanto Un avversario Ne possiede ben due In questa partita Quindi c'è pressione Psicologica Perché un avversario L'altro avversario L'altro avversario è Il tempo La Klessidra Che si sta per esaurire 5 minuti di tempo A disposizione Per chiudere una partita Con un mazzo Tendenzialmente Lento Grave Gravissimo Dettato Dettato da Dall'ansia Di Di essere rincorso Dal tempo Arriva Zaret A velocità flash Si va a risolvere Skyclive Apparition Tanto la cosa importante Qui a lui A Drevo Non è un problema Che muoia la terra Che la cosa fondamentale Era andare A risolvere Intanto Uno dei tre Storm The Festival Nel Cimitero di Rob Attenzione C'è pure Agathem Awakening Nella mano Di Drevo Vediamo se arriva Sto Storm The Festival Tardivissimo Finalmente Giunge Vediamo che cosa Esce fuori dal cilindro Devo farlo molto prima Il festival Molto prima Non lo so Però Sicuramente Il turno precedente Sì al 100% Molto male Questo festival Non ha fatto nulla Non ha fatto niente Questo festival L'ha missato? Oh mio dio Ha missato festival? Forse non l'ha fatto Perché c'erano poche probabilità Di dittare È vero È verissimo Quindi questa cosa Che dice Davide In chat È fondamentale Potrebbe essere Benissimo Che Lui sa Bene Quali carte Di sono rimaste All'interno del deck E quindi sa anche Che Storm The Festival Non è efficiente Però allo stesso modo Allo stesso Comunque Quell'attacco lì Non era buono A prescindere E forse no Semplicemente forse Ha finito le carte Cioè ha finito il valore Nel mazzo Ha finito proprio il value Ha già uscito tutto Potrebbe darsi Le risorse Potrebbe darsi Svariati danni Della magia Violentissimi Portano a 6 Rob Ha ribaltato Una situazione Quasi irrecuperabile Ha ribaltato Una partita incredibile Ha ribaltato Una partita pazzesca Ma che fa Spoiler Ma che pazzo Stia buono Stia in silenzio E si può ammugliare Probabilmente Sono 6 punti vita Di opponent Sembra essere Abbastanza finita Questa partita Attenzione Doomscar Un po' tardi 7 punti vita Scarta Doomscar Giustamente Ha bisogno di Wandering Emper Nonostante Doomscar Sarebbe stata una buona Soluzione In questo turno È importante Tenere Doomscar 7 punti vita Per opponent Tante terre Con le quali Attaccare La bellezza Di 2 Terre Con minacciare Con le quali Attaccare E qui si smorca E qui Si entra in azione Alla modica Cifra Di 10 mana C'ho due Bellissime 6-6 Minacciose Che tolgono Gli Storm The Festival Che non ci sono Nel cimitero E Dovrebbe Ad occhio Dovrebbe essere lì Perché ci sono 4 creature Che può minacciare Come le pari 4 creature Che può minacciare Scherzavo Attacca solo così 2 non si può bloccare 2 è MVP comunque 2 è carta più forte Del mazzo 2 è imbloccabile Carta più forte Del mazzo Mazzato Playswalker Avversari Tutto Arriva il Wondering Emperor Certo i blocchi Sui minacciare Sono terribi Terrificanti Terrificanti Questo è un bel attacco In realtà È un bel attacco Perché attaccare Col 3-3 Col 2-3 Significava schiantarli Semplicemente Non aveva il minimo senso Invece così Mi ammazzi comunque Minaccioso Passano comunque Svariati danni Va a 2 E penso che concede Subito dopo Vediamo se è vero Da 3 in realtà Perché c'è L'ottimo Celestus Poi mette Pupazzo Attenzione Binding Di Old Gold È una bella No la scartata Terribile Binding Di Old Gold Era ottimo Qua Andavi a risolvere Il maledetto Imbloccabile Andavi a risolvere Ho addirittura L'Olt Una delle due cose No mi sa che Non era letale Con tutto No mi sa che Non era letale Con tutto Non era letale Con tutto Andava a 2 Comunque a 2 Finiva Finiva comunque a 2 Che è successo Se ho perso qualcosa Un minuto di tempo A prescindere L'avrebbe vinta di tempo Sta partita Poteva tergiversare E vincere di tempo A prescindere Tiratissima Questa partita Tiratissima Angelo che ci saluta E mo E mo Finisce qua A voglia Zero carta in mano Si fa easy Terra Ammazzo Il Porcellum Si picchia Con tutto E Si raccolgono Le bambole Ladies and gentlemen Partita Mozzafiato Trionfata Alla fine Da Mister Drabble Ciao Buonasera 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 Complimentissimi Mazzo stupendo Complimenti Grazie Ma che mazzo ha portato Ma che pazzo E vabbè Alla fine ho voluto Provare qualcosa di diverso Visto che i mazzi in meta Mi annoiano molto Penso si sarà capito Anche dall'altra L'altro mazzo La Lords of Blink Mi son detto Vabbè Facciamo qualcosa di diverso E quindi ho provato a creare Ruggs di nuovo Infatti ma lei era quello di Lords of Blink Lei è veramente un giocatore pazzesco L'ha creato lei questo mazzo quindi Sì Questo qua Rugg Sostanzialmente Mi sono andato a vedere le liste Pioneer E ho detto Ok come posso farlo in standard E quindi ecco è uscito questo mazzo Esattamente Esattamente Prendere ispirazione dal Pioneer Assolutamente sensato Soprattutto quando si gioca a Historic E ci sono un sacco di carte In comune Tra i due formati Complimenti Ci dica qualcosa più di lei Che si è qualificato Per questa finalissima Contento? Eh sì Molto contento Ammetto che Adesso alla fine Ho temuto un po' Ma più che altro Perché mi ero innervosito parecchio Per il fatto delle decklist Che Brancolavo nel buio Cioè Quando ho visto certe carte E ho detto Oh mio dio Certo 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 Poi alla fine È andato bene Ecco intanto Spero Vogliamo contestare subito una cosa Cioè per quale motivo Ha tenuto la 1-1 in cima Quando ha tenuto con una terra Poi a un certo punto ha tenuto La 1-1 blu in cima Ma ancora non aveva ottenuto Il mana nero G2 Che poi è morto Allora Se non erro L'ho fatto Semplicemente perché Se non sbaglio In mano avevo un counter Quindi ho pensato Ok inizio a mettere Quanto meno Il picchiante a terra Questo Il pezzettino volante Che attacca a terra E comunque Mi proteggo Se gioco qualcosa di grosso Se non sbaglio Però ripeto Il G2 È stato molto Nebuloso Perché stavo Metà giocando E metà parlando Con il judge Certo Per capire Qual era Il problema Certo Certo Assolutamente Stava la partita Estremamente combattuta Mamma mia Capovolgimento L'ultimo game È stato incredibile Capovolgimento di fronti Sì sì Mi sono divertito molto Anch'io Perché a un certo punto Quando avevo The Wondering Game Per Ror Kaya e Kaito A terra Sembrava che giocavo Tipo Super Friends Esattamente È stato bellissimo Ma questi sono I primissimi tornei Competitivi Che fa Oppure Già è Ma guarda Ti dirò Tu Forse non ti ricordi Di me Però hai streamato Red Bull Untapped Che ho vinto Con Lords of Blink Quando è stato Nel 2020 Certo che mi ricordo Certo È ammazzato Tian in finale Esatto Che poi Si è ammazzato da solo Perché il mazzo L'ha ammazzato Bisogna essere onesti Sì è vero È vero È un giocatore vero Della magia Insomma Non è il primo Palcoscenico Che calca Quindi lei viene qui Per vincere Con mazzi inventati Di sana pianta Sì va che Te l'ho detto Alla fine Per me l'importante È giocare Qualcosa di Diverso Qualcosa di particolare Perché se dovessi Portare un mazzo in meta Mi annoierai solamente Complimenti ancora Complimenti ancora Complimenti ancora Per la Doppotto Allora in bocca al lupo Testerà Testi Testi In questo periodo Perché Va bene Va bene E così si vince tutti i tornei Che commento io Scusi Si vince tutti E voglio E voglio una percentuale Però scusi Vuol dire La scia positiva Sono io a portare le fortuna Scusi Vince tutti i tornei Che commento Che mando in diretta Su questo canale Va bene In effetti è vero Complimenti Complimenti ancora Ci vediamo Ci vediamo Per la finale Giovedì 31 marzo Ciao caro Ciao Buona serata Ciao Ciao Ciao